Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Andrea e dopo tanto tempo sono ritornato qui a fare i video perché ho avuto dei problemi, perché visto che erano gli ultimi giorni di scuola mi dovevo impegnare di più c'erano le ultime interrogazioni, queste cose qua quindi adesso sono pronta per fare lo speciale dei 300 iscritti non diciamo proprio 300 perché siamo in 323 quindi vi volevo ringraziare di tutto perché siamo già a molti iscritti e comunque in due anni sono tanti tanti iscritti quindi volevo ringraziarvi a tutti quanti come vedete qui siamo a 323 e come speciale avevo in mente di farvi vedere il mio nuovo profilo Pinterest che faccio già video da un po' ma non ve l'ho ancora mai detto questo qui è il mio profilo Pinterest dove potete seguirmi se volete mi chiamano chiacciareandrino0193 ho messo questo soprannome qua andrino con emoji e questa è la descrizione dove c'è anche il mio canale youtube che viene indicato è scritto ciao a tutti io sono Andrea questo è il mio profilo di Pinterest mi piace la cancelleria, il bullet journal, prendere appunti, leggere, fare i video e tutte le cose che riguardano il mondo dell'arte spero che mi inizierete a seguire, ciao allora io ho fatto un sacco di video questi sono i video che ho fatto fino ad ora tutti questi e parlo appunto delle cose che ci sono nella descrizione e come vedete faccio video di appunti questo video l'ho appena fatto che organizzo il vostro telefono voi mi dite un tema e lo faccio questo qui è come funziona l'applicazione serve per aggiungere dei font nelle foto delle foto con font lettering eccetera poi sempre qui il tema poi ho fatto le domande del giorno qui come vedete poi cosa portare in zira faccio questo stile con le note che c'è un'applicazione che mi fa le note dell'iPhone adesso ve la faccio vedere è questa qua si chiama note basta cercare note iOS 15 iOS scritto e qui ho fatto un sacco di questi questi stili qua io ad esempio ho fatto cosa portare in gita ho scritto poi qui ho sempre domande del giorno un'idea che avevo appunto le domande del giorno da fare anche dei video un po' casual anche che non c'entrano tipo qui che mi aveva regalato dei pastelli li ho fatti vedere poi qui dei sfondi che mi piacevano li ho condivisi con gli altri lui ho chiesto se vi piacevano i contenuti cosa fare durante la verifica qui un video un video dove avevo comprato delle cose le app per gestire i propri video di youtube delle descrizioni di whatsapp consigli per la scuola come essere ordinati a scuola questo è uno schema che avevo fatto in questo video le app perfette per la scuola che mi ha fatto in questo video ho fatto un sacco di visualizzazioni come vedete qua 3914 questi dei 6 youtube e film che consigliavo qui uno schema sul sistema muscolare che ovviamente avevo fatto prima in un video cosa fare quando si è annoiati che è la prima cosa che ho fatto con questo stile qua completavo il bullet journal adesso non lo faccio più sistemi gli apparati di scienze qui uno schema del... bullet journal bullet journal ciao a tutti mi chiamo Andrea questo è il mio profilo Pinterest in cui inizierò a fare video mi piace molto farli infatti ho anche un canale youtube che si chiama Andrino0193 proprio come questo profilo in cui se volete potete iscrivervi mi piace tantissimo disegnare usare la cancelleria fare il bullet journal studiare fare schemi e creare cose porterò dei video su questi argomenti spero che mi inizierete a seguire e niente ciao qui vi lascio questo video in cui vi mostro delle cose che mi piacciono buona visione e niente questo qui è il mio profilo in cui ho già 33 follower che sono veramente tantissimi ne ho fatti già un sacco nuovi e niente qui salvo anche delle cose dove i miei follower possono andare a scaricare questi spawn di queste immagini e niente quindi spero che mi inizierete tutti a seguire qui vi lascio anche questo pinned code in cui potete fare lo screenshot e poi lo cercate su Pinterest e potete seguirmi subito comunque vi lascerò sempre il link sotto nella descrizione dei video come ve l'ho già lasciato prima però non facevo ancora video e niente spero che questo video anche se è colorito vi sia piaciuto e vorrei augurarvi buone vacanze estive in cui cercherò di pubblicare più video possibili e niente ciao grazie ancora per tutti questi iscritti grazie a tutti grazie a tutti